Certamente Gesù ha rappresentato una grande novità nel rapporto con le donne proprio per la sua estrema immediatezza, sincerità nel tracarle e in questa sincerità è riuscito a evidenziare le molte ricchezze che le donne concrete che aveva di fronte avevano in loro stesse. In Gesù poi ovviamente incide moltissimo la visione biblica della creazione comune dell'uomo e della donna con pari dignità come raccontata nella Genesi, proprio con questo testo della Genesi Gesù ha rinnovato queste pratiche del ripudio, le ha completamente allantanate.